Now, here comes the music Second is on the beat Disco drop the beat, fix, discomania mix Disco drop the beat, fix, discomania mix Fix Aumentate i bossi E per foo E per foo Disco mania mix, discomania Devo dire che l'urlo iniziale è per forza e volutamente voluto Dovutamente voluto Anche perché questo ragazzi è un appuntamento veramente straordinario Veramente speciale Avrete sicuramente capito che sto parlando della nostra consueta Disco mania mix Che però non è tanto una consuetudine di appuntamento di questa sera Perché sarà una discomania un po' extra large Ovvero durerà due ore Esattamente Stefano Secchi e Bicchi Si occuperanno insieme a voi di scoprire Quali sono state le qua Dico aspettate un attimo Le quaranta Le quaranta canzoni più forti Del millenovecentonovantaquattro Essendo appunto questa la puntata di fine anno Per cui andremo a visitare tutte le canzoni Che hanno fatto suettare i ragazzi A destra e a manca Naturalmente questo è un appuntamento Che potrete anche riascoltare in replica Dalle due in poi di questa notte Ovviamente ci saranno le repliche Di tutte le classifiche dell'anno Ci sarà la IT International Con Marco Galli E poi a seguire ovviamente anche l'istumenia Per cui non sappiamo dirvi esattamente L'orario in cui potrete riascoltare Questa che è la classifica più forte Come già detto allora Dobbiamo occuparci delle quaranta canzoni Che hanno fatto ballare di tutti i ragazzi E in quarantesima posizione È giusto sapere In maniera, devo dire, abbastanza violenta Anche se l'artista L'abbiamo conosciuto parecchi anni fa Si trova soltanto in quarantesima posizione Perché quest'anno, devo dire Non è che gli sia andata benissimo Sto parlando di Hathaway 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 Bene così ad aprire la Discomania Mix Dell'anno 1994 In quarantesima posizione Rock Mahat di Hathaway Un posto più su c'è Cappella Numero 39 Con tre canzoni Hanno fatto spettare i ragazzi d'Italia Adesso you've got to let the music Un posto più su c'è Come on, come on You and me, you and me, you and me, you and me, you and me forever Grazie a tutti 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 Donnie Grazie a tutti 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 Stiamo Grazie a tutti 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 Siamo stati accompagnati dal suono di Einstein Un inventore pazzesco Dr. Gigi In doppio due 22esima posizione con Electro Woman e Automatic Sex E il ritmo sale ancora un po' di più Ce la fate, vero? Direi proprio che sì Questo preriscaldamento al termine dell'anno Con le canzoni più forti Numero 21 Bomba! Ramirez Personaggio noto al pubblico delle discoteche nel mondo Numero 21 Bomba! Bomba! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Numero 20 invece Da Blade Grazie a tutti 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 Una cosa Grazie a tutti 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 Blast Grazie a tutti 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 con Gem Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Numero 12 Grazie a tutti 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 Erano Grazie a tutti Modo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti